La Ternana perché secondo me non potevo fare una scelta migliore, è una società solida, una piazza dove si può fare tranquillamente calcio con tanta voglia magari di ritornare presto in Serie B. Esterno, sinistro? Dovrei immaginare un po' di chilometri anche quest'anno. Sì, sicuramente negli ultimi anni ho cambiato diversi ruoli sia nel fare il terzino che fare l'esterno di centrocampo, quindi diciamo che con la mia esperienza ormai mi adatto a tutto e non c'è nessun tipo di problema, ho solo tanta voglia di poter aiutare i miei compagni a raggiungere l'obiettivo. Vieni da una piazza calda e esigente, ne trovi un'altra a te tanto calda ed esigente? Sì, sicuramente sono stati quattro anni intensi ad Avellino, allo stesso tempo cambio girone ma la voglia di riassaporare quel calcio che conta è la stessa, quindi sicuramente arrivo con tanta voglia di far bene come l'ho sempre avuto ad Avellino.